Mi ricordo la vittoria dopo due mesi, quanto ci voleva? Tanto, è caduta l'ultima palla e ci è stato da qualche secondo in campo che ci siamo guardati per dire abbiamo vinto, davvero? Quindi sì, ci voleva, siamo contenti, c'era tanta tensione in campo perché comunque dopo tante partite perse questa era da vincere, c'era tensione, si vedeva però alla fine secondo me non abbiamo proprio giocato benissimissimo ma l'importante era vincere così è stato, quindi sono felicissima, veramente, non ho più energie. Anche in certo tempo hanno macerato, sentato tutto per tutto, abbiamo risposto qualche scuola? Sì, no, beh, loro ovviamente stanno lottando per non retrocedere, quindi sapevamo che non sarebbe stato semplice, poi giocare in questa palestra non è neanche tanto facile, quindi davvero sono contenta, adesso possiamo tirare un piccolo sospiro di sollievo perché comunque tre punti ci danno tanto morale. Adesso ho altre due parti importanti contro le due cose che ci servono, questa vittoria che sarà un punto in partenza. Assolutamente, adesso ci godiamo questa vittoria, poi da martedì, mercoledì, cominciamo a pensare a Perugia, però adesso finalmente godiamoci i tre punti che sono arrivati dopo tanto tempo.